Ciao amici di Tagliato Games, buongiorno e buona domenica. Sono mortificato ma questa settimana la rubrica della domenica mattina dei giri gratis è un po' mesta perché non andrà in onda come al solito. Cosa è successo sostanzialmente? Non so il perché ogni tanto mi capita che non mi viene registrato il video che faccio. Capito ogni tanto con le partite, è capitato questa volta anche con il video di stamattina, non so la ragione, non ci sono problemi di spazi su hard disk, purtroppo devo dirvi che i giri li ho già fatti, i giri fatti non è che chissà cos'erano questa settimana, c'era il ticket giocatori standard per il campionato brasiliano, uno scarsone beccato, c'erano i giri per il pool di Beckenbauer, ne ho fatti parecchio, beccato anche Davis, adesso mi rimangono pochissimi giocatori ma il piatto forte Beckenbauer l'avevo già preso quindi non è che avessi particolare interesse, è arrivare a 50 e vedere se si può impostare il pool o meno, sostanzialmente non sono ancora arrivato a 50, ci arriverò la settimana prossima. E poi c'era il giro gratis della settimana e non vi posso creare l'emozione perché lo potete vedere voi stessi, ho pescato il signor Petri che è un signor giocatore, però andando poi a confrontarlo con il Petri del pack Messi in realtà le differenze non sono così sostanziali, anzi lancio il sondaggio se secondo voi sia meglio questo Petri che già ho e che uso come CLS o questo nuovo. Allora vi faccio vedere, Petri in campo arrivi a 100, quello nuovo, praticamente con il boost, senza boost è meglio l'altro sicuramente. Comunque comportamento offensivo è meglio quello nuovo, controllo palla meno uno è meglio quello vecchio, il dribbling è meglio quello vecchio, il possesso stretto è meglio quello vecchio, il passaggio verso terra è meglio quello vecchio e il passaggio alto è meglio quello vecchio. Dall'altra parte la finalizzazione è meglio quello nuovo, il colpo di testa più 11 però sempre basso, calcita fermo meglio nuovo, tiro a giro più 5, velocità più 2, accelerazione più 4, potenza di tiro uguale, salto meglio quello nuovo, il contatto fisico nettamente quello nuovo, il controllo corpo meglio quello nuovo, la resistenza meglio quello nuovo, il comportamento offensivo più 3, il contrasto più 3, l'aggressività più 3 e gli altri parametri, il coinvolgimento offensivo e quelli di porta sono sostanzialmente gli stessi. Allora io vi dico stasera lo provo quello nuovo perché lo voglio provare, però voglio sapere da voi, secondo voi avendo appena visto i commenti, se è meglio la versione del pack Messi, questo che in campo arriva a 99, oppure quello nuovo che in campo arriva a 100, ma cambia poco l'overall, a seconda di come gioco, della posizione in cui lo metto tutto quanto, perché può giocare solo CLS, né MAD scende, né CLD che scende, né attaccante che scende, solo nel mio modulo può giocare solo CLS. Lo avete visto quello vecchio, venerdì ha fatto ottime partite, insomma voglio sapere la vostra opinione, meglio quello vecchio o quello nuovo? Rispondete nei commenti, mi scuso ancora per non esserci il solito Giro Tune, eccetera eccetera, purtroppo è stato questo piccolo problema tecnico, è la prima volta che mi capita nel video della domenica, ma può capitare, cercherò di fare la massima attenzione, io ogni volta che registro faccio anche una prova, ma ogni tanto capita ragazzi, purtroppo, il bello della diretta, il bello della registrazione, no, è il brutto della registrazione. Comunque stasera si prova quello nuovo, indubbiamente, domani mattina torneremo a vedere gli aggiornamenti del gioco in game, sera campionato, eccetera eccetera eccetera. Io ragazzi vi auguro ancora una volta buona domenica, mi scuso ancora una volta per non aver mostrato il momento del pescaggio, diciamo, vi auguro ancora una buona domenica, vi aspetto questa sera alle 20 con il campionato e ci vediamo poi domani mattina per le novità in game. Ciao!